Novità del 22 giugno, un invalido può presentare tutta la documentazione sanitaria nella domanda di invalidità. Qual è il rischio fondamentale? Che le commissioni mediche non attribuiscono una corretta percentuale di invalidità proprio perché non viene più effettuata la visita medica. E allora se ti trovi in questa situazione e ritieni che la percentuale non è adeguata, contattami.